La Procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia, ha indagato per assenteismo 101 dipendenti della RAP, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti. A 18 i carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno notificato l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. I furbetti del cartellino timbravano il badge e poco dopo uscivano senza alcun controllo. Sono accusate a vario titolo di truffa aggravata, false attestazioni o certificazioni e appropriazione in debita. L'indagine svolta dal nucleo operativo della Compagnia di Palermo, Piazza Verdi, nasce da accertamenti disposti dopo la denuncia di una funzionaria che ha presentato un esposto lamentando furti di carburante dai mezzi della società. L'inchiesta è andata avanti da maggio a luglio 2021. Gli indagati sono stati pedinate e controllati per giorni. Gli episodi di assenteismo accertati sono stati 1.385. Gli inquirenti hanno stimato per la società un danno economico di quasi 40.000 euro per un ammontare di 2.800 ore di assenza. È una vecchia indagine, ovviamente. Attendiamo l'esito e dove risultassero gravi inadempienze. Ci costituiremo parte civile, ha commentato il presidente della RAP, Giuseppe Todaro. Per 18 degli indagati il GIP Elisabetta Stampacchia ha disposto la presentazione alla Polizia Giudiziaria.